Pochi giorni fa sono andato ad Arona, sulle sponde del Lago Maggiore, per osservare la posa di una serie di legnaie sul fondo del lago, a circa 10 metri di profondità, quindi molto vicino alla riva. A che cosa servono queste strutture? Sostanzialmente la loro principale funzione è quella di assistere i pesci a riprodursi. In particolare il pesce persico, che è autoctono e sta vivendo un momento di difficoltà, soprattutto per l'avvento di tante specie all'octone che non dovrebbero trovarsi in quell'ambiente. La legnaia funge da vero e proprio incubatore, permette ai pesci di trovare un luogo sicuro in cui deporre le uova e anche dopo la schiusa delle uova, gli avannotti trovano sicurezza, una relativa sicurezza e protezione per potersi accrescere quel tanto che basta per poi avventurarsi nelle acque del lago. Di questo argomento parlerò più diffusamente su un video che verrà pubblicato su Radar Magazine, ma nel frattempo, se siete curiosi, potete andare a visitare la pagina incubatoionaturale.it per capire non soltanto come funzionano questi sistemi, ma anche per vedere delle bellissime immagini subacquee. Infatti insieme a questi incubatoi sono state disposte anche alcune webcam subacquee che permettono di vedere immagini bellissime del mondo sommerso. Immagini magari ben diverse dai paradisi tropicali o anche dalle acque marine a cui siamo solitamente abituati, ma un mondo comunque affascinante e insolito che è proprio alle porte di casa nostra e sta passando un momento abbastanza difficile, un po' per la siccità, ma anche per i cambiamenti climatici e per l'arrivo di specie all'octone.